Allora, buongiorno a tutti, sono Sara Scaglioni e faccio parte del gruppo informale di studio Celebre Vignolesi. Qui accanto a me vedete il mio collega Piero Venturelli e oggi noi ci troviamo all'interno di questo luogo storico che è appunto la Camera Natale di Lodovico Antonio Muratori. Non so se sapete chi è Lodovico Antonio Muratori e lascio appunto al mio collega la parola per spendere giusto qualche parola in più insomma su chi era Muratori. Prego Piero. Lodovico Antonio Muratori è uno dei più illustri vignolesi della storia della comunità e noto internazionalmente come uno dei più grandi storici del Settecento, un grande personaggio che ha dato il tono a chi può dire almeno la prima metà del secolo, tanto è vero che autorevoli studiosi considerano il suo periodo come addirittura il secolo di Muratori e Muratori, è stato uno dei primi a livello europeo a rivalutare l'importanza del periodo medievale. Per lui il periodo medievale durava mille anni, dall'anno 500 all'anno 1500. Una delle sue opere più importanti è Rerum Italicano, scrittores, dove raccoglie una serie di cronache inedite del periodo medievale, le raccoglie in volumi ed è questa una delle opere capitali, la base della storiografia del periodo riguardante il millennio medievale. Celebri Vignolesi è un gruppo informale di studio che ha come obiettivo quello di far conoscere maggiormente la vita e le opere di personaggi celebri, vignolesi naturalmente, vignolesi di nascita o di adozione, come ad esempio siamo all'interno della Camera Natale, diciamo Muratori, Francesco Selmi, Giuseppe Maria Soli e molti altri che potete trovare nel nostro sito. Io consiglio veramente a tutti i vignolesi e non, perché come testimonia il nostro libro delle firme abbiamo avuto anche diversi turisti italiani, internazionali, comunque ne abbiamo avuti molti, consiglio veramente a tutti di visitare questa piccola perla della nostra città. Quindi ringrazio tutti e alla prossima! Grazie a tutti!